eccoci qua al centro commerciale i portali di modena con un personaggio d'eccezione francesca cipriano oggi sono stra convinto che ci divertiamo sicuramente dobbiamo trovare due concorrenti daremo loro la possibilità di poter spendere in 20 minuti nei negozi della galleria 200 euro e dovranno generare un outfit completo poi tu giudichi eh sicuramente sono pronta allora facciamo le parentesi siccome farei quella di chiusura facciamo anche quella di apertura diamo un argomento ma dato che siamo a modena in questa zona sono nati molti artisti cantanti come vasco rossi pavarotti io darei il tema una serata di un concerto wow molto bello complimenti allora adesso andiamo a cercare i concorrenti beh devo dire una cosa è proprio piacevole girare qui in galleria però dobbiamo trovare una ragazza forse eccola forse ne ho vista una andiamo 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 ciao oh caspita hai preso paura no senti non ti diciamo nulla però tu ci stai a giocare con noi a fashion game ok va bene Sara sei arruolata sei una di noi ecco vedi adesso dovremmo trovare un'altra ragazza si potrebbero anche andare al concerto assieme o ciao come ti chiami francesca senti francesca noi da regolamento non possiamo dirti nulla devi dirci solo di sì o no vuoi giocare con noi a fashion game bene allora sei pronta ad essere arruolata francesca sei arruolata ok grazie per aver accettato il nostro invito allora chiara francesca state molto attente avrete la possibilità di poter spendere fra pochissimi secondi un massimo di 200 euro nei negozi della galleria del centro commerciale i portali qui a modena ma dovrete farlo nel tempo massimo di 20 minuti e dovrete completare il vostro outfit però l'outfit ha una linea guida che ha scelto francesca ed è questo il tema è serata ad un concerto scegliete voi quale concerto e scegliete voi quale serata ma i vostri 20 minuti partono da adesso ciao e riuscireste a farvi vedere dei jeans un po strappati potrei guardare una maglietta un paio di pantaloni questi ok questi mi piacciono molto molto belli ci sta per un concerto strappati ecco quello lì lo lì va bene va bene ti lo stai tutto ti lo stai tutto bella mi piace questo c'è anche scura ok prendo questa bella mi piace allora adesso devo prendere una maglietta qui potrei trovarla allora questi sono costati 39 quindi devo prendere un paio di scarpe che costino poco no quella stella è troppo grande lascia stare quella maglia bianca neutra sopra un paio di jeans ci sta benissimo ok prendo questa belle queste però dai è un concerto coi sandali poi c'è saltellare saltellare non ce la fanno dopo non ce la fanno andiamo da piazza Italia bella anche questa no bella quella felpa bella e prendila 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 poi metti che viene un proprio freschino e perfetta comode mi piacciono alte queste non mi dispiacciono alte come piacciono a me nera ok quasi quasi prendo questa bene prendo queste ci sta ci sta se viene freddo almeno ok le scarpe sono fatte andiamo a cercare la maglia cacca jeans e maglietta 140 euro un paio di scarpe bella questa mi piace un sacco ma no la camicia arancione è assolutamente fuori di moda mi mancano le scarpe queste sono belle 14,95 euro belle belle cerchiamo il mio numero queste 36 perfette benissimo per un concerto bianca una scritta così ok questo secondo me sta bene allora mi mancano 50 euro potrei prendere un accessorio andiamo lì allora all'aperto quindi sarà caldo un cappello vediamo questo ciao ho 50 euro devo prendere un accessorio tipo una collana su colori dell'argento forse è meglio questo non è male per il sole può andare ed è nel mio budget bene lo prendo questo mi piace abbondanti questa mi piace molto la vuoi provare? si una collana questa mi piace molto bella ok la collana ce l'ho bella secondo me questa è perfetta così ci metti del nero sotto che fa contrasto bellissima grazie belli anche questi anche questo beh potrei prenderlo da metterci i panini l'acqua guarda per 3 euro c'è anche la bandana che ti fa comodo visto che vai il concerto si tanto mi sono rimasta ancora qualche si anche perchè la collana costante un po' meno ok grazie mille a te ciao buona giornata a te ciao ciao prego io vorrei legare un po' i capelli raccoglierli un po' perchè è un concerto una cosa tu te ne dici se facciamo una freccia morbida si si grazie grazie a te ok ci siamo eccomi bene francesca abbiamo visto il percorso d'acquisto di chiara e di francesca oh ti sei divertita un sacco si eh poi un sacco e una borsa anzi due ho esagerato fuori ho esagerato va bene allora adesso noi vedremo come sarà il loro outfit per il concerto quindi ufficialmente le possiamo mandare nei camerini ragazze potete andare via molto bene ci siamo la prima a essere pronta e chiara eccola qua eh 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 la sera del concerto quindi freggi ma cos'hai al braccio ti sei fatta male eh è una bandana perchè se poi viene caldo ve la metto ma il jeans è un po' troppo largo una o due taglie in più è oversize è oversize dici ma ci penso un attimo molto bene ma adesso è il momento di vedere il look di francesca ehi la hai capito freci eh devo dire che è molto carino molto sbarazzino poi col cappellino bianco molto di moda estivo per il sole lo zainetto molto colorato fa colore da un tono in più la sneakers è molto simpatica Francesca si devo dire proprio di sì stai molto bene allora Francesca adesso vediamo esattamente nel dettaglio come si sono mosse ovviamente qui a fashion game e poi sarai tu a decretare la vincitrice è è è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Complimenti. Hai visto? Hai vinto il tuo outfit? Vabbè, insomma, voglio dire, ci andiamo lo stesso al concerto. È ovvio. Bene, se dovessi andare a un concerto andresti a un concerto di? Giovannotti. Giovannotti. E per te? Anch'io. Bene, allora vorrà dire che in qualche modo... Insieme. Esatto. Perfetto. Quindi Fashion Game termina qui. Oh, ci siamo divertiti anche oggi perché abbiamo visto le ragazze bravissime. Tantissimo, complimenti ragazze. Il prossimo concerto... dove andrai? Con chi andrai? Beh, qui a Modena il prossimo anno c'è il grande concerto di Vasco Rossi. Bene, allora quindi praticamente, ovviamente con un bicchiere di lambrusco e una tigella andremo tutti quanti a vedere il grande Vasco. Ci vediamo alla prossima Fashion Game. Ciao!